Ancora un gran pienone, tante risate all'auditorium di Sernia per la commedia dialettale senza parlaccio capem, senza parlare ci capiamo, concepita da Maurizio Veneziale e ambientata nel 1969. Siamo alla vigilia dell'istituzione della provincia ma in realtà le vicende che ruotano intorno alla nascita del lente di via Berta rappresentano solo un pretesto per affrontare altre tematiche anche serie stimolanti ma sempre con il sorriso sulle labbra. Grazie anche alla cura delle scenografie e dei costumi le nuove generazioni hanno avuto la possibilità di assaporare lo stile di vita e la mentalità di quasi mezzo secolo fa per chi invece in quegli anni già c'era è stato un nostalgico tuffo nel passato. Certo è che quei mesi dietro il via ha un profondo cambiamento. La provincia non la vedo come una cosa che ha migliorato la città, l'ha semplicemente modificata. Siamo passati da una cultura che era quasi prettamente a vocazione contadina a una cultura provinciale fatta di serviti e impiegati. Questo verrà detto poi tra l'altro. Adesso io oppongo questo quesito durante la commedia. Siamo migliorati o siamo andati in peggio? Lascio questa riflessione. Secondo me senza parlarci capire. Ancora una volta gli attori della compagnia teatrale cast guidata da Salvatore Mincione Guarino hanno fatto il pieno di consensi mostrando qualità che ora cominciano ad essere apprezzate anche fuori regione. Tutte le volte che facciamo uno spettacolo è una scommessa, è come se noi dovessimo alzare continuamente l'asticella. Cerchiamo di tenere sempre un buon livello. Non è facile perché cambiamo spettacoli ogni 20 giorni, però ce la mettiamo tutta. D'altra parte è il nostro lavoro, quindi ci impegna tutte le prove almeno quattro ore al giorno, quindi insomma è un lavoro gratificante ma soprattutto divertente. Obiettivi futuri è quello di continuare a fare questo lavoro al meglio cercando di, come stiamo facendo, d'altra parte anche farci conoscere fuori, fuori regione. Saremo a Napoli a dicembre, 25-26 dicembre saremo a Napoli con uno spettacolo, per cui insomma piano piano ci allarghiamo.